Lavoratori in nero e sfruttati a 3 euro all'ora scatta il blitz dei carabinieri nelle catene di autolavaggio con la sede dell'impresa Bellocchi di Fano, arrestati 4 egiziani. A Fano e il convegno di Marche Nord sul coronavirus, dirigenti, medici ed esperti del settore hanno fatto il punto sulla pandemia e annunciato gli strumenti messi in campo per fronteggiare le varianti e l'eventuale quarta ondata, al via da oggi i tamponi lecca lecca. Sanità, duro attacco del sindaco serie alla giunta regionale, a Pesaro un nuovo ospedale e a Fano una mini struttura con 200 posti, una scelta sbilanciata, detto che sarà l'inizio della fine per il Santa Croce. La segreteria di Acquaroli però precisa, nessuna richiesta formale per un confronto. Via le auto da piazza a Marcolini, comune di Fano sta lavorando al progetto di riqualificazione ma monta la protesta dei residenti, disagi anche per i disabili, il sindaco promette un incontro. Il paglio delle contrade torna a casa, niente sfide ma grandi emozioni e spettacoli in piazza 20 Settembre e alla Corte Malatessiana di Fano. Samuel Day Subsonica sarà all'arena BCC di Fano al Via Le Prevendite per il concerto di domenica 29 agosto che chiuderà l'edizione estiva del Carnevale. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, apriamo il nostro telegiornale con la cronaca, i carabinieri hanno arrestato 4 egiziani che sfruttavano 3 euro all'ora o addirittura pagavano in nero ben 18 connazionali impiegati per 12 ore al giorno nelle catene di autolavaggio. L'impresa ha la sede legale a Bellocchi di Fano, tutti particolari nel servizio di apertura che è stato curato da Letizia Marchion. È stata svolta un'indagine appunto dai carabinieri. Sfruttamento di lavoratori e caporalato a Bellocchi di Fano sono stati scoperti ed arrestati dai carabinieri del gruppo tutela del lavoro di Venezia in collaborazione con i colleghi dei comandi provinciali di Pesaro Urbino, Latina e Ravenna, 4 egiziani ritenuti responsabili dei reati di intermediazione e sfruttamento del lavoro aggravato in concorso commessi nei confronti di decine di stranieri, per la maggior parte loro concittadini. Il provvedimento è messo dal GIP del Tribunale di Pesaro su richiesta della Procura a origine dall'attività investigativa condotta tra i mesi di febbraio 2020 e marzo 2021 dai militari del nucleo carabinieri spettorato del lavoro in una serie di impianti di autolavaggio delle province di Pesaro Urbino e Limitrofe. Le indagini hanno consentito ai militari di individuare un'imperesa con sede legale a Bellocchi di Fano, operante nel settore del lavaggio di auto, che reclutava prevalentemente egiziani sfruttandoli in diversi impianti del settore. I lavoratori, impiegati senza alcun dispositivo di protezione e non rispettando le normative anti-Covid, erano inoltre pagati 3 euro per ogni ora di lavoro a fronte dei 6,51 euro contrattualmente previsti. Era inoltre imposto loro il pagamento di 150 euro per un posto letto all'interno di alloggi in pessimo stato, privi di riscaldamento, con infissi danneggiati e con servizi igienici del tutto inadeguati. Gli egiziani inoltre venivano impiegati anche per 12 ore di lavoro al giorno. C'è stata tutta una parte amministrativa che ha consentito di verificare come questi proprietari di questo autolavaggio non avessero versato contributi per circa 150.000 euro, contributi che dovevano essere appunto versati in favore dei cittadini egiziani che venivano sfruttati per il loro lavoro che avevano effettuato. L'attività investigativa svolta dai carabinieri ha consentito poi di accertare l'impiego in nero di 18 lavoratori, due dei quali sprovvisti di permesso di soggiorno. L'attività è stata un'attività molto importante che dà un riscontro di come l'arma dei carabinieri e in particolare la specialità della tutela del lavoro sempre supportata dall'arma territoriale possa condurre queste attività in contrasto di questo fenomeno del caporalato che come abbiamo dimostrato non è un fenomeno che si identifica come generalmente conosciuto con lo sfruttamento del lavoro in agricoltura ma anche in altri settori. Quindi è un approccio strutturale che viene fatto perché andiamo a tutelare diversi beni giuridici quelli dei diritti della persona, diritti dei lavoratori ma anche i diritti della libera concorrenza. E adesso apriamo la pagina della sanità. Dopo oltre un anno dall'inizio della pandemia oggi alla Pinacoteca San Domenico Affano l'azienda Marche Nord ha fatto il punto sulle precedenti ondate e ha annunciato nuovi strumenti per fronteggiare le varianti ma anche una eventuale quarta ondata. C'era per noi Angelica Panzieri. Ad oltre un anno di convivenza con il Covid in uno scenario epidemiologico apparentemente sotto controllo ma incalzato dall'imprevedibilità delle varianti, l'azienda ospedaliera Marche Nord fa il punto sull'esperienza maturata durante le precedenti ondate e si prepara al futuro mettendo in campo nuovi strumenti di tracciamento, approcci terapeutici innovativi sperimentali applicati nelle diverse fasi della malattia e modelli organizzativi strategici che consentono di rimodulare l'offerta clinico-assistenziale in un'ottica di rete e integrazione tra ospedale e territorio. Di questo e tanto altro si è parlato nel convegno di oggi pomeriggio dal titolo Covid, la scienza a letto del paziente organizzato dall'azienda Marche Nord nella sede della Pinacoteca San Domenico di Fano e moderato dal direttore generale Maria Capalbo. Professionisti esperti in prima linea dall'inizio dell'emergenza hanno messo a confronto le proprie esperienze condividendo i protocolli necessari per la gestione dei diversi stadi del virus e facendo chiarezza sulle nuove terapie come ad esempio l'impiego degli anticorpi monoclonali. La situazione è sotto controllo ma non bisogna abbassare la guardia questo lo sappiamo perché il virus ancora non è debellato. Lei è direttore scientifico di questo convegno? Di che cosa si parlerà? Per scambiarci esperienze sia da un punto di vista clinico sia da un punto di vista organizzativo per questi sono i due momenti fondamentali una clinica e una terapia adeguata ma un'organizzazione altrettanto adeguata e questo c'è stato devo dire. 2.000 volti dell'eparina che cosa significa? L'eparina è un farmaco straordinario che noi abbiamo impiegato sia per le sue proprietà anticoagulanti sappiamo che il covid si compita spesso con embolia polmonare con trombosi venosa profonda ma abbiamo scoperto che l'eparina ha anche tante grandi attività di tipo antinfiammatorio, di tipo di protezione endoteliale e anche di tipo antivirale. Parleremo anche di questo. Di quello che questi 18 mesi ci hanno insegnato per essere proattivi ed affrontare al meglio un'eventuale quarta ondata con le professionalità cliniche di tutta la regione Marche. In un anno e mezzo abbiamo ricoverato oltre un migliaio di pazienti covid. Alla prima ondata che soprattutto per Pesaro è stata veramente tragica ma anche alla seconda e soprattutto terza ondata che ha colpito molto duramente e ci ha messo veramente alla prova. Attualmente la situazione è tranquilla ci sono due pazienti ricoverate come sapete presso Pesaro però siamo tutti pronti nel caso in cui ci fosse una qualche recrudescenza. Questa variante Delta crea tutta una serie di problemi per le persone che non sono vaccinate e naturalmente anche per il servizio sanitario. Quindi speriamo che non ci siano persone che inconsapevolmente siano non solo vettori del nuovo variante ma soprattutto incubatori di nuove varianti che possono essere resistenti ai vaccini. Si è ipotizzato anche un ritorno delle Marche in zona gialla? Sì, c'è una rielaborazione del tema della classificazione dell'epidemia per le misure restrittive. C'è una proposta della conferenza della Stato-Regioni e tra Regioni per chiedere allo Stato che questo indice di pericolosità sia individuato non sulla base delle persone positive bensì sulla base delle persone che sono ricoverate negli ospedali. Vedremo che cosa succede nei prossimi giorni. E da oggi negli ospedali di Marche Nord è partita una nuova modalità di screening con i test salivari meno invasivi rispetto a quelli nasofaringei una sorta di lecca-lecca che si tiene in bocca per circa un minuto. Arrivano i tamponi molecolari salivari in ospedale ecco la nuova arma contro il nemico invisibile. Da oggi infatti l'azienda ospedaliera Marche Nord darà inizio a una nuova modalità di screening dei suoi pazienti più rapida, efficace e meno invasiva dei tamponi nasofaringei. Si tratta di una sorta di lecca-lecca che si tiene in bocca solo un minuto e ha un'attendibilità che può arrivare fino al 98%. Poi il campione viene processato in laboratorio usando gli stessi reagenti e macchinari dei test molecolari classici. Una novità che da un lato mostra la volontà dell'azienda di non abbassare la guardia rispetto al Covid dall'altro rappresenta la necessità di procedere con il tracciamento ancora lungo incalzati dall'imprevedibilità delle varianti sebbene la vaccinazione stia dando comunque una buona mano per contenere il virus. Cambia solo la tecnica perché il tampone salivare è una sorta di lecca-lecca praticamente basta aprirlo ho adesso la mascherina basta metterlo in bocca strisciarlo sulla lingua tra i denti e nella guancia tenerlo un minuto e dopo il minuto si rimette nella sua provetta. Qual è il vantaggio? Ha un'affidabilità del 98% capite bene qual è il vantaggio che è meno invasivo quindi lo utilizzeremo soprattutto negli screening dei pazienti ricoverati indicato quindi per i bambini è indicato per i disabili è indicato per gli anziani è indicato per quei lavoratori che devono sottoporsi a screening ripetutamente Positivi al covid in rialzo nelle marche nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 60 in testa le province di Ascoli Piceno con 18 casi e Pesor Urbino con 16 non si sono verificati i decessi nell'ultima giornata ma c'è un ricovero in più in terapia non intensiva Duro attacco del sindaco di Fano Massimo Seri alla giunta regionale il primo cittadino è preoccupato per il futuro del Santa Croce che rimarrà ha detto una vecchia struttura con soli 200 posti let una scelta quella della regione che per seri è squilibrata a discapito dell'intera vallata del Metau se fino a ieri parlevamo di un ospedale unico provinciale oggi parliamo di un unico ospedale quello del San Salvatore torna a batteri pugni il sindaco di Fano Massimo Seri che oggi ha convocato la stampa per parlare degli ospedali dopo la decisione della giunta regionale sul riassetto della sanità il primo cittadino non solo denuncia il mancato confronto con i territori ma lancia l'allarme sul futuro del Santa Croce infatti in base alle ultime scelte il protocollo del 2018 che prevedeva l'ospedale unico a Pesaro il nosocomio a Fano più la clinica privata a Chiaruccia va in fumo ad oggi è previsto un nuovo ospedale con 400 posti letto da realizzare a case bruciate o a muraglia mentre a Fano rimarrebbe il Santa Croce con 200 posti si apre ha detto una stagione di incertezze rischiamo di compromettere anche tutto un percorso fatto di questi 15-20 anni di anche integrazione fra le due strutture con una proposta a ribasso che non è adeguata a quelle che sono le esigenze della città di Fano e del territorio avevo chiesto in più occasioni incontro con il presidente non è avvenuto vedo che va in giro per la provincia è andato giustamente a Pesaro è andato a Sassocorvara a Montefeltro non è venuto a Fano voglio ricordare che Fano ancora nelle Marche è la terza città per abitanti quindi ha un ruolo importante però ho qualche sospetto mentre dall'altra parte è andata a raccontare cosa andavano a fare e qui deve venire a raccontare cosa non si fa a pensare male qualche volta ci si azzecca ha aggiunto Seri che ha chiesto alla giunta regionale più attenzione per Fano con investimenti e nuove strutture servono servizi adeguati in base alla popolazione ha detto il sindaco altrimenti sarà l'inizio della fine è solo questione di tempo significa declassare la sanità di questo territorio e significa un domani andare al superamento e fare quello che magari hanno combattuto con una nuova struttura che sarà ancora più a nord io di questo finché sarò sindaco la combatterò quindi questa mia presa posizione è proprio per riequilibrare e giustamente dare le giuste risposte che devono avere questi territori lasciatemi dire una battuta la cosa che mi dispiace è che Fano nel contesto politico regionale non ha mai avuto tanto potere metà della giunta è espressione di questo territorio di cui due Fano e penso che non si possono accontentare di un trofeo così basso per questo territorio e nel tardo pomeriggio dalla segreteria del presidente Acquaroli è stato chiarito che non è mai pervenuta agli uffici alcuna richiesta formale di incontro il sindaco ha cercato in via informale in due occasioni di contattare il presidente un giorno chiamando il telefono fisso in segreteria chiedendo di parlare con lui che si trovava fuori per un impegno e inviando poi un unico messaggio sul telefono cellulare privato del governatore da un numero che non era salvato in rubrica e quindi non riconoscibile ci siamo subito attivati nei confronti del sindaco Seri si legge nella nota e a breve si svolgerà l'incontro con la massima disponibilità da parte di questa amministrazione regionale si precisa in ogni caso che la comunicazione tra istituzioni dovrebbe avvenire sempre attraverso i canali istituzionali e sull'argomento sono intervenuti anche il vice presidente delle Marche Mirco Carloni il consigliere regionale Luca Serfilippi che hanno definito fuori tempo e infondato sussulto di Seri sulla sanità l'ospedale Santa Croce non si tocca hanno ribadito la giunta e l'assessore Salta Martini stanno lavorando per stralciare dal piano socio-sanitario la realizzazione dell'ospedale unico da 600 posti che previsto dal PD e da Seri a Muraglia di Pesaro avrebbe comportato la chiusura del Santa Croce sul reale sul reale hanno concluso Eleghissi che il primo cittadino al posto di applaudire a questa nuova programmazione preferisca buttarla in Cacciara dichiarando falsità ora cambiamo argomento ci spostiamo nel centro storico di Fano dove un gruppo di residenti protesta contro il progetto di riqualificazione di Piazza Marcolini che prevede anche la rimozione dei parcheggi Finalmente Piazza Marcolini verrà riqualificata dopo tanti anni di degrado e di abbandono il comune sta lavorando al progetto definitivo ma ai residenti nuva proprio giù la rimozione dei parcheggi bene il restyling ma senza gli stalli per le auto tante famiglie e in particolare i disabili si troveranno in difficoltà ieri intanto sono state depositate in municipio 41 firme per protestare contro la scelta dell'amministrazione e la raccolta proseguirà anche nelle prossime settimane siamo contenti che finalmente Piazza Marcolini venga presa in considerazione e sia riqualificata siamo molto preoccupati del fatto che vengano tolti i parcheggi perché questo crea un disagio non indifferente a noi residenti in quanto tanti sono pendolari ci sono tanti anziani ci sono anche famiglie con bambini che non saprebbero dove parcheggiare la loro auto Fanno non è una città che offre servizi che possano sopperire alla mancanza di parcheggi quindi ci troveremo in grande difficoltà dall'amministrazione non abbiamo saputo nulla circa i piani nei confronti dei parcheggi se verranno restituiti oppure no questi posti auto che vengono tolti e questo ci dessa tanta preoccupazione Quindi al momento mancano delle alternative e si vorrebbero a creare notevoli disagi Sì esattamente anche perché in questo parcheggio ci sono diversi posti riservati ai disabili e ci sono diverse persone con disabilità che sono molto preoccupate perché non saprebbero proprio come raggiungere le abitazioni speriamo che almeno loro vengano tenuti in considerazione e domani è stata presentata un'interpellanza da parte della Lega di cui si discuterà domani in consiglio comunale e speriamo di acquisire delle notizie Si stanno realizzando tante piazze da vivere ha aggiunto la portavoce ma sono anche residenti attraverso la cura e la manutenzione delle case a mantenere il centro storico bello e vivo Il problema dei parcheggi ha detto Francesca sta spingendo alcuni di noi a pensare di trasferirsi e temiamo che possa disincentivare gli acquisti e le conseguenti ristrutturazioni delle unità immobiliari del centro città quando il signor Seri si è presentato come candidato sindaco ha scelto uno slogan di grande efficacia ci metto la faccia dopo più di un anno aspettiamo che ci metta anche le orecchie perché fare il sindaco a nostro parere è anche ascoltare quelle che sono le esigenze dei cittadini ci sono stati decenni passati in cui tra chi governava e i cittadini c'erano delle cinghie di trasmissione si chiamavano partiti sezioni dei partiti si chiamavano sindacati oggi i partiti praticamente non esistono più hanno tutte le sedi chiuse i sindacati si occupano di pensioni e fisco per cui il rapporto tra chi ha il potere e i cittadini non esiste e quindi o dentro le municipalità c'è qualcuno che oltre la faccia c'ha anche le orecchie e la volontà di incontrare i cittadini di sentire quali sono i loro bisogni le loro necessità oppure la democrazia arruginisce in Grecia quasi 3.000 anni fa la democrazia è nata nelle piazze non nel chiuso dei palazzi questa è una piazza qui ci sono dei cittadini con delle necessità dei bisogni sarebbe bene che qualcuno venisse ad ascoltare e oggi è arrivata la risposta del sindaco serie che ha promesso lunedì pomeriggio alle ore 18 incontreremo i residenti sindaco i residenti hanno chiesto un incontro con lei per poter cercare di capire la problematica e confrontarsi è possibile? sì è già in programma adesso fra l'altro l'assessore è diventata anche mamma quindi ho piacere che sia presente anche lei per cui adesso risponderemo anche alla loro richiesta però garantisco che ci sarà questo incontro perché poi è importante serve anche a noi per affrontare una serie di problematiche che poi si possono creare per dare anche delle risposte individuare anche raccogliere anche dei suggerimenti dai residenti stessi perché abbiamo a cuore la bellezza della città quindi il miglioramento la riqualificazione della città e nello stesso tempo la vivibilità di chi ci abita il ristoratore Umberto Carriera fondatore di IoApro si è sfogato in diretta sui social mostrando tutte le sanzioni ricevute durante le numerose proteste tra cui multe e chiusure dei locali per diversi giorni ma anche il documento con i 5 reati penali che gli vengono contestati Carriera infatti indagato anche per istigazione a delinquere circostanze aggravanti per esistenza pubblico ufficiale per aver commesso più violazioni della stessa legge sentiamo allora un breve strato del video nel quale ha spiegato le motivazioni di questa diretta per far capire a tutti e far comprendere a tutti quelli di IoApro cosa hanno fatto cosa stanno facendo e cosa stanno rischiando perché ripeto quando leggo e l'ho detto anche all'inizio di questa diretta che ci siamo venduti che non abbiamo fatto niente che l'abbiamo fatto per pubblicità la risposta è in queste indagini in queste sanzioni amministrative e penali ed ora gli eventi dopo un anno di stop a causa della pandemia torna al paglio delle contrade l'evento che si terrà sabato e domenica in piazza 20 settembre alla corte malatestiana di Fano quest'anno prevede decine di spettacoli ma senza le sfide tra le contrade falconieri sbandieratori musici sputafuoco ma anche giocolieri e la corte di Pandolfo III malatesta non ci saranno le sfide quest'anno al palio delle contrade ma un ricco programma di spettacoli che andranno in scena nel centro storico di Fano sabato 17 e domenica 18 luglio a dare avvio al fine settimana sarà l'evento di venerdì alle 21.15 alla corte malatestiana organizzato da impronte femminili in collaborazione con l'assessorato alle pari opportunità del comune di Fano dal titolo concerto segreto delle dame sabato sera invece si partirà con una serata rievocativa in piazza 20 settembre tutte le iniziative sono gratuite ma qui sono previsti 200 posti a sedere per i quali è necessaria la prenotazione tramite il sito del palio o su live ticket punto it tante le richieste già arrivate da ogni parte d'Italia sarà una serata di festeggiamenti in onore del matrimonio di Pandolfo III e Paolo Bianca quindi insieme di spettacoli più filologici più storici ma altrettanto avvincenti e spettacolari in onore del nostro signore la seconda serata sarà una serata più di spettacoli e di animazioni per i tanti spettatori che verranno gli spettacoli inizieranno alle ore 21 ma in contemporanea all'interno della corte malatestiana sarà allestito un autentico spaccato medievale in una ricostruzione rigorosamente filologica in collaborazione con il gruppo in itinere musica medievale che aprirà le porte dalle 19 alla mezzanotte con la possibilità di continuare il viaggio nella storia visitando il museo cittadino previ acquisto del biglietto in questo contesto dove verrà realizzato un percorso didattico divulgativo si assisterà anche ad un laboratorio di ceramiche antiche curato da Laura Lippera logicamente sempre con il sostegno e il supporto e il consiglio della nostra studiosa più importante di Fano che è la professoressa Anna Falcioni che è anche presidente del centro studi malatestiano ci ha suggerito ci ha consigliato e ci ha aiutato nella ricostruzione di questo ambiente di quello che potevamo inserire all'interno della corte malatestiana per farsi il visitatore che possa respirare quest'area l'area della nostra corte fanese La Pandofaccia che torna a casa e nonostante il covid una manifestazione confermata Una manifestazione confermata e siamo veramente tanto contenti insomma riportiamo alla luce anche quest'anno dopo questo periodo di pandemia il periodo storico dei malatesta a casa dei malatesta perché saremo alla corte malatestiana in un evento che insomma si terrà nel weekend dove la città ovviamente sarà appositamente allestita quindi veramente un grande ringraziamento ai ragazzi che stanno lavorando tanto in questo periodo di pandemia e che rendono danno alla città ciò che serve Anche la Regione Marche continua a credere in questa manifestazione? Sì, la Regione Marche continua a sostenere il palio delle contrade l'elemento di novità è quello di riaprire anche la corte malatestiana un bellissimo scenario per la quale invitiamo fanesi e non solo a partecipare Dal centro città ai tre punti di Fano perché tra gli ospiti più attesi all'arena BCC c'è Samuel Day Subsonica sono già partite le prevendite per questo evento che si terrà domenica 29 agosto e che chiuderà l'edizione estiva del Carnevale Presidente il Carnevale Estatico si chiuderà con un super ospite Sì si chiuderà con un super ospite on stage in collaborazione con l'ente carnevalesca offre questo questo magnifico concerto di Samuel siamo molto contenti di questo all'arena BCC il 29 agosto i tesserati carnevalesca avranno una bellissima agevolazione perché potranno vedere Samuel dalla prima fila quindi prenotatevi in carnevalesca e potrete appunto vederlo da vicino vicino importante anche la collaborazione con la cooperativa Tre Ponti assolutamente grazie alla collaborazione con la cooperativa Tre Ponti e quindi all'ospitalità che ci danno all'arena abbiamo la possibilità quest'anno di portare un grande artista nazionale che è Samuel leader dei Subsonica dei Motor Connection conosciuto anche per essere stato uno dei giudici delle ultime edizioni di X Factor nonché solista ha iniziato da tempo anche questa carriera da solista è stato a Sanremo quindi insomma lo conoscono un po' tutti e noi lo ospitiamo a Fano quest'anno le prevendite sono partite? le prevendite sono partite su live ticket online e poi è possibile prenotare i biglietti sia all'arena sia in carnevalesca soprattutto per i tesserati carnevalesca sia in una serie di esercizi aderenti potete trovare l'elenco sulla pagina di On Stage Produzioni sulla pagina Facebook Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale sulla cerimonia di consegna delle borse di studio della BCC di Fano che sarà preceduto dalla missa in onda della toccante video intervista ai genitori di Mirko e Monica Buttaroni i due giovani in memoria dei quali la banca da 25 anni assegna premi agli studenti meritevoli invece l'informazione torna domani mattina alle ore 7 in direnta con il commento alla stampa del nostro direttore Marco Ferri arrivederci arrivederci a a a Autore dei sovrapposti